Abbassare il colesterolo cattivo, LDL, in modo efficace e sostenuto nel tempo è una sfida non sempre facile, soprattutto per chi è ad alto rischio cardiovascolare. A maggior ragione in Calabria, dove il 62% dei pazienti con ipercolesterolemia non controlla adeguatamente i propri valori nonostante le terapie e non raggiunge di conseguenza gli obiettivi terapeutici raccomandati dalle nuove linee guida europee. Proprio a queste persone, oggi la scienza medica offre una nuova e concreta opportunità, con un nuovo farmaco rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale e disponibile nei centri prescrittori della Calabria. Inclisiran rappresenta una vera e propria novità nell'ambito terapeutico cardiovascolare. In parole semplici, questa piccola molecola va a legarsi alla proteina PCSK9 riducendone la sintesi proteica. L'effetto che noi abbiamo è che a livello del fegato vi è un maggiore riciclo dei recettori per l'LDL che si traduce in una riduzione dei livelli circolanti di colesterolo LDL, con una riduzione del colesterolo LDL superiore al 50%. È la prima terapia a base di RNA messaggero interferente che può aiutare i pazienti a dimezzare i livelli di colesterolo cattivo, LDL nel sangue e a mantenerli stabili nel tempo. Si assume due volte all'anno. Oltre all'innovazione terapeutica, la gestione territoriale del colesterolo è determinante. Le persone con ipercolesterolemia devono essere eseguite nel tempo al fine di evitare l'insorgenza di eventi cardiovascolari ancora molto alti in Calabria. Un'adeguata presa in carico concorre ad alleggerire anche il lavoro e i costi sanitari delle strutture ospedaliere. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nei paesi occidentali, in Italia ed anche in Calabria, rappresentando il 38% delle cause di decesso nelle sue forme più gravi con infarto ed ictus. Questa mortalità è quasi doppia rispetto a quella per tumori che pure vengono percepiti con grandi allarme legittimamente dalla popolazione, ma dobbiamo avere ben presente che la prima causa di morte sono le malattie cardiovascolari. Per fortuna questo è uno dei fattori di rischio che possiamo meglio controllare perché disponiamo di molti farmaci che agiscono con diverse vie di azione e di somministrazione in grado di ridurre grandemente i valori di colesterolo LDL. Grazie. 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 Grazie.